Hai incontrato il diavolo? È giornata d'ora. Se vuoi, ti posso preparare il bagno. Hai sentito? Allora, pare che abbiano fatto piazza pulita nel ghetto. Hai visto qualcosa? Mi dispiace per quella gente. Dio punerà gli avidi. Sono stati gli ebrei a crocifiggere Gesù. È scritto nella Bibbia. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Lo dice il prete. Eh. Questa è la politica della Chiesa. Ma prova a pensarci. Gli ebrei sono esattamente come noi. Anche la Madonna e tutti i dodici apostoli erano dei. Gesù compreso. Gesù. Corro. Salve. Gesù. Grazie a tutti.